ora Filippo una battaglia una guerra stasera sportiva bellissima tra l'altro da vedere per un palazzetto pieno alla fine l'abbiamo spuntata con un bel gioco di carattere contro un grande avversario si stati bravi perché in futuro ci saranno tante gare del genere non lo vedo come un punto perso ma una battaglia vinta e vinta con carattere vinta con determinazione e con un gruppo unito che ha saputo lottare fino all'ultimo pallone senti chiudiamo questo 2018 in vetta il 2019 non posso non chiedertelo insomma si apre con una partita penso particolare per te noi andiamo a trento tra l'altro prima contro seconda ci giochiamo la vetta provvisoria e sarà immagino emozionante adesso cominciano ad arrivare le partite che contano le partite da insomma importanti ed è bello farlo insomma la colla prima in in trasferta a casa loro loro giocano molto bene l'hanno dimostrato hanno sempre vinto in casa c'è da mettere tanto tanto bel gioco tanta bella energia riportarci un po l'emozione di stasera anche la quando sarà più complicato e la sua di emozione sarà importante perché comunque è la prima volta che torno a trento sarà emozionante ma d'altra parte io adesso vesto questa maglia voglio onorarla e giocare bene per perugia grazie filippo buon anno grazie a voi buon anno